Ciao a tutti amici scleppatori e benvenuti in questa nuova puntata, cioè diciamo aggiornamento, che è detta meglio in questo aggiornamento dove alcuni di voi mi hanno detto di fare il nuovo video sulle moto e allora vi ci siamo detti, intanto questa macchina è morta nel campo e sicché ci siamo detti, perché non fare una specie di... alcuni lo chiamano vlog, ma noi lo chiamiamo sclepp aggiornamento, perché noi siamo diversi e fieri facciamo questo video per dirvi che l'11, l'11 maggio, bimbi signora bestia, ciao grande l'11 maggio andiamo a Milano, cioè che sarebbe poi Bergamo, ad AK Informatica che è un negozio che vende hardware per computer, roba da gaming e così sicuramente alcuni di voi lo conosceranno e si va là perché praticamente c'è questo evento, AK Informatica fa un evento rivolto all'overclock ci sarà anche Ocaolic, dove presenteranno le nuove piattaforme Intel Z97 dell'MSI appunto e faranno anche un evento di overclock estremo con l'azoto liquido sulle R9 290X se non sbaglio dell'MSI che hanno solo loro in Italia, da quel che ho capito ci saremo anche noi con il nostro computer quello che vedrete in questo giovedì perché loro praticamente fanno anche un contest di PC modding e quindi noi si va là oltre per riprendere le varie cose e poi pubblicarlo anche sul canale andremo là anche per presentare il nostro computer siamo a Bergamo, in descrizione trovate l'indirizzo del negozio se volete venirci a trovare e appunto venire anche all'evento perché hanno un gran bell'evento non se ne vedano o comunque non se ne trovano in Italia di eventi così particolari noi siamo là e ci saremo dalle 2 perché l'evento inizia dalle 2 fino alle 7 e mezzo noi ci saremo dalle 2 appunto fino alle 7 e mezzo quindi chi magari ci può conoscere meglio perché ci vede sempre a fare video o cose così ci facciamo 600 km andate a ritorno cioè in totale che sarebbe 300 e 300 per andare là ci saranno anche vari youtuber come Legolas, Steph90, Hyperdupe Gaming e qualcosa del genere non mi ricordo, anche Nicky HD di NLGM Team qualcosa così se non potete venire l'11 ragazzi vedrete l'evento sul nostro canale dove pubblicheremo probabilmente successivamente non si sa quando perché abbiamo ancora qualche video a mente da fare però molto probabilmente lo vedrete nel nostro canale cioè non molto probabilmente certamente lo vedrete sul nostro canale per oggi è tutto ragazzi una sglappe sgassata a tutti voi e ci vediamo al prossimo video ciao